Pratico è il software ideale per la creazione di tutte le pratiche edilizie secondo la nuova normativa. Anzitutto si compone di un elenco di un archivio di clienti che troviamo nel momento in cui abbiamo il software. In questo archivio di clienti è possibile andare ad effettuare delle ricerche una volta che è stato popolato. La ricerca funziona molto semplicemente cominciando a scrivere parti del cognome o del nome. Ad esempio se volessimo cercare il cliente Jannella Edoardo basta cominciare a scrivere e in automatico il software comincia ad effettuare la scrematura dei clienti in maniera molto veloce. Una volta che abbiamo trovato il cliente desiderato basta fare doppio clic su di esso per andarne a visualizzare quelli che sono i dettagli. Nel caso in cui volessimo inserire un nuovo cliente basta una volta che siamo ovviamente nell'archivio clienti cliccare sul nuovo cliente nel menu contestuale. Quindi nuovo cliente vado a inserire quelli che sono i dati. Quindi posso partire da un titolo se c'è oppure direttamente vado a inserire quelli che sono i dati del nostro cliente. Quindi partiamo dal cognome. Possiamo inserire il cliente Rossi Mario. Nato a Roma. Posso andare a cercare quella che è la città. Roma. Sesso maschile. Nato il 15.02.1947. Cliccando su questo bottoncino effetto il calcolo del codice fiscale in automatico. Stato Italia. Residente. Facciamo da Vellino. Una volta che trovo il comune desiderato basta cliccare per far caricare tutti i dati contestuali. Quindi viene caricato in automatico provincia cappestato. Indirizzo via delle rose 58. Posso inserire il telefono. Cellulare. E-mail. E così via. Una volta che ho inserito, scriviamola in minuscolo, info-rossi.it Una volta che ho inserito tutti i dati desiderati, semplicemente salva modifiche e all'interno del mio archivio troverò anche il cliente Rossi Mario. E-mail.